Per l'ottantesimo anniversario della liberazione Lampi Provinciale torna a casa Taverni sull'Alpe di Catenaia, sede del comando della brigata partigiana Pio Burri e pone una nuova targa perché rimanga viva la memoria di questo luogo e dei valori come la libertà e la democrazia che animarono i giovani di allora. Qui si erano insediati i partigiani e qui sono rimasti, nessuno li ha mandati via e i tedeschi stessi, nonostante i tentativi non sono riusciti in qualche modo a spostarli e comunque a farli migrare in altri posti. Quindi anche simbolicamente è un punto dove la resistenza ha fatto veramente la resistenza ed è rimasta sul territorio presidiandolo e coordinando poi da qui in quei due mesi tutte le attività partigiane perché qui hanno dormito fianco a fianco i comandanti partigiani e la compagnia comando quindi tutti erano qui dentro, c'erano i cavalli e di questo c'è tante situazioni di storia, di vissuto, di stare insieme che veramente ci riempiono sempre il cuore quando ne parliamo. Casa Taverni è a 1100 metri nell'Alpe di Catenaia ed è nel territorio di Subbiano ma è una proprietà della regione toscana gestita dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino. Oggi anche un rifugio con attività ricettiva. È un segno, è una testimonianza che vogliamo lasciare per i giovani che magari vengono qui per godersi i panorami che abbiamo nella nostra montagna perché magari vedendo una lapide anche più recente possano continuare a riflettere. Il passato di questa gente che ha fatto e ha combattuto proprio per la nostra nazione credo che vada riconosciuto e in un momento come questo vediamo tutti i giorni cosa sta succedendo nel mondo.